L'equazione della Virtus a rete ha segnato Riccardo del Bello, l'undicesima rete di questa gara. Il portiere ospite si è esibito in belle parate, se no il risultato sarebbe stato più severo. Ma si giustifica in quanto in formazione il rapino calcio ha messo molti ragazzini, anche del 2008, in quanto non avevano i ragazzi per formare una formazione di 11 titolari. L'arbitro, il direttore di gara, è la sua prima partita. È stato facilitato il suo arbitraggio dalla correttezza dei ragazzi scesi in campo. C'è anche il tutor che è venuto a dare consigli al ragazzo, ha la sua prima esperienza nell'arbitraggio. Tira direttamente in porta fuori, rimessa dal fondo per il rapino calcio.